Musica 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 Beh ragazzi come è Mark e bentornati in questo nuovo Video di minecraft tram oggi finalmente Sulle cubo Lucky block su Pixar Roda ragazzi sono davvero molto felice di presentarvi Questo minigame su questo server che è il server Di marci a cui ho aiutato a fare Qualcosina magari organizzare perché non sono Illuminato ok ora sono illuminato ragazzi Ad aiutarlo un po' Col minigame un po' di qua di là Con le poters con le cubo e tutto quanto il resto Quindi vi do da subito lasciare il piace e il commento a iscrivervi Al canale se non lo avete fatto mi raccomando noi ci vediamo Direttamente in partita e praticamente sono tutti quanti Senza skin tranne sto zetta super qualcosa Beh ciao Oddio sono youtuber ma fraglitz Sono uno Youtuber da 100 Mila no da un milione Di iscritti Mi conoscete Oddio che top Che top No screen ma come Non vuoi fare screen Strando lo speciale Un milione Oddio rega Che top Che top Posso trollare finalmente col disguise No uno mi dice che sono io Non vale Non vale dire che sono disghisato Ok gente ci siamo Io mi chiamo Allora ciao Stupib Cioè per questo server Io sono stupibo Cioè Ma perché c'è sempre un Gust Non ho mai capito sta roba Questa quella è TNT Wound Allora calma un attimo Vediamo se la spara un po' di TNT Quella Aspetta 25 secondi Vabbè grazie Cioè davvero Allora vediamo quante robe Fiche possiamo trovare Due Allora una Questo vetro qua Invisible wand Ok poi Questo qui lo slime wand Deve imparare un pochino il wand Rega perché non mi intendo Mio dio Che bello un baby de mark Mio dio si è bellissimo Allora qua Un'ascia Con la super gold axe Ok Praticamente un'altra recapitator Ho capito Poi il bucket di lava Ah Ah Non mi sto per mettere a bardare con la lava Ve lo giuro che non lo sto per fare Rega Allora calma un attimino Non lo sto per fare Ve lo giuro Infatti Tac Dov'è finita Dov'è finita la mia lava Mi hanno tolto la lava Maddie Maddie Allora qua un altro baby de mark Oddio Questo qui è il knockback Quello 10.000 Tanta roba rega Frecce Robbe Cose strane Devo andare a prendere niente Per al centro però Tra un pochino eh Oddio Quanta chili ho trovato Vabbè mettiamoci Però la toguta sta clima Da fastidio No 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 C'è un bomber qua da me E io lo so Eh lo sapevo Lo sapevo che Veniva qualche persona simpatica Oh l'ho shottato Bello È un grande Però ora che sono disghissato Rega nessuno potrebbe Capire più o meno chi sono A parte che ho salutato C'è scritto youtuber Magari c'è qualcuno Si può fare qualche domanda Oddio che spada Che spada della madonna È Looting 1 Fireaspers 2 Knockback 4 Minca Cioè complimento Quasi quasi Che è venuto Quella 3 di goli Io vado da lui Cioè Ho filato una enderper Zio cantante Ne ho un'altra Non ne ho un'altra Enderper Quanta espi Dai Sì ma dammela la mia esperienza Io la voglio Oh una pettorina Che top Una pettorina Lì però datemi cose fiche Per favore Un'altra spada Devo astante E qua mi ha dato Un gambali 8 di diamante Che potrebbero servire Per fare un piccone Roba del genere Altro diamantolo Eh no Eh no Eh ci sei anche qua eh Eh È un piccone di diamante Tanta roba Sto spada qua Guarda l'altra infatti 32 di diamante Ce l'ho del legno Non ho del legno Palle Lo volevo il legno Eh Eh no Cosa sei No 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 È una cosa È una cosa troppo devastante No no Perché non Cosa cazzo sta diventando Stai Scappiamo Scappiamo Che ansia Quella roba era gigantesca Rega No io c'ho paura dei ghast Mamma dai Dov'è finito il ghast gigantesco Ah ecco Verso il centro e oltre No eh Madonna Quanto sono caduto male Non ho ancora fatto niente E già stato eliminato qualcuno Oh c'è un bomber qua Eh Come ti permetti Eh 118 Come ti sei permesso Di venire qua da me Oh Come ti sei permesciuto Via Lucky Blaze Merda Questa isola qua Sta diventando un griff Praticamente Allora qua Mettiamoci la pettorina in diamante Dove è andata qua Ancora tutta sta clay Inutile Ma io voglio un arco Ce l'ho un arco da qualche parte Non c'ho l'arco Perché non c'ho un arco Anna top l'ossidiana Rega Che top Lucky potion Minchia Questa ti dà una Questa è una bestia Eh Basta Io voglio ucciderti Come faccio Madonna mia Sono un incubo È un incubo Vorrei un attimo capire Cosa cazzo era Un pollo kamikaze Come son morto Ma ce l'avevi le enderper Non mi arrivano le enderper Perché non c'ho l'inventario libero Sono un coglione Togliamoci tutte ste merdate Per favore Do quanto nel cesso A regà Buongiorno A regà Non ce ne sono Ok perfetto Buongiorno E qua Pensavo fosse un enderper Che palle No 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 quanti siete Quanti siete Quanti Calma un attimo Perché non vedo una figa No ma No ma io vi ho sparato Nel vuoto Eh vabbè Il buio totale Gente Qua Eh la madonna Cos'è adesso La fire wand Ok grazie mamma Per la fire wand No ancora voi Basta Ancora voi Basta Basta Non sto capendo Un cazzo Non sto capendo Stai impazzendo In queste cubo nuove Qualcuno qua da me No 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 Bomber Allora calma un attimo Vieni qua Mi serve Salire Aiuto Dove scappi Da me non scapperai mai C'è qua dei mark Eh Boom Shottato Eh bomber Ci hai provato È il I miti come Cioè è il rosso Ok va bene È il rosso che è davanti a me Però io non ho enderper Non cazzo Ma avete rotto il cazzo voi Eh Basta Zio cantante C'ho una spada 10.000 Tutto Ok Final Posso liberarmi Finalmente l'inventario No 32 diamanti Ho buttato giù No sono un coglione Ma perché ho due enderperle in testa Voglio andare al centro Ho dovuto prendere le enderper lì Oh che cavo Tornare prima a casa Un attimo Perché c'è lui lì Mi sta facendo un ponte in faccia Praticamente Uè Ciao Mi chiamo Marco E tu stai provando a venire da me Eh Bravo bomber Bravo Bravo Una bad war Le cubo stanno diventando una nuova bad wars Ho capito Ci stanno Non è un brutto ragionamento Eh Cioè Ciao Ciao Cioè Tu hai fatto tutto sto ponte Per cosa Non dimmi che hai fatto un altro ponte Ma io non ci credo Non ci credo Non ci sto a credere Frate Stai a sgrava troppo Eh Ok rega Sono da lui Sono da lui Top Sono da lui Allora Calma un attimo Sto rompendo Sono shiftato pure qua dentro Ho mangiato una mela OP Quindi top Mi scrive grande Mi scrive Mi sa che mi ha scoperto Mi sa che sa che sono io Perché sto giocando in modo molto ignorante Ecco Rompiamo qua della zona dove c'è l'ossidiana rega Perché così siamo molto più comodi dopo Per killarlo Ma mi sa che lui non sta facendo resistenza È stato eliminato E vabbè Ma il rosso non ha nemmeno guardato il muro qua di vetro rosso che aveva Ma sei un po' un pirla bomber Quindi ti elimino anche a te rosso Ciao Oh ne Allora lì c'è il viola Che anche il viola è da eliminare C'è cento il viola Ok bravo Bravo Che ti sei enderpearlato Bravissimo No ho finito un enderpearl No 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 Ecco infatti ti pareva E la madonna che Oh mio dio mi ha lagato troppo Oh Thank you lag Però io vorrei delle enderpearl Zio cantante Porco Droppiamo giù tutta sta merda che abbiamo trovato Continuiamo a trovare sempre Per favore io la mia sfiga Cazzo è Ma dov'è il gas che mi rompe sempre le palle Basta Ti pareva Ti pareva Dai mi stai enderpearlato Sono impazzisco te lo giuro No vieni qua Ok è morto È morto Ok perfetto Però mi sa che lui si è fottuto tutte le enderpearlate al centro No Ce ne sono Quattro qua Poi vediamo un attimino Nelle altre zone dove sono Che qua c'è un'altra Qua Non ce ne sono Cazzarola Qua do Oddio Ma la mia isola qual è rega Io sono stupid b e sono verde Ok era giusto per capire Ho sei enderpearl Bisogna andare Prima dal viola lì Per forza Quindi andiamoci Ok sono sopra sul nucleo rega Top Minchia ci metterò anni a entrare Lo so già Però posso passare da sotto Posso passare da sotto rega Che lui da sotto non avrà bardato secondo me No c'ho le bombe Mi ha scoperto 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 No mi ha scoperto rega Oh 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 Che top Via 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 Non ha preso knockback Non ha preso knockback Questa cosa qua c'è 20 di knockback Ma perché mi riporta indietro Ma che non prende knockback O la final lì Però mi servono dei blocchi per salire Allora calma Uno Due Tre Poi Enderpearl per spararmi qua Ok perfetto Ok perfetto rega È un casino È un fottutissimo casino Ok via Si è saltato proprio in aria malissimo eh bomber Qua devo spaccarli più in fretta possibile Però no Non c'ho un piccone decente Non posso nemmeno incantarmelo Allora Manca poco Li manca poco Non venire ora a rompermi le palle Sì Finalmente posso spararti via Oh Finalmente Madonna mia Ok Torna qua un attimo Eh dio bomber Lo fate voi con me Ora lo faccio anch'io con voi Mi spiace Ok via Mo si entra Mo entriamo Mo entriamo bomber Mo si entra Due strati di ossidiana Ok Questo qua salta in aria Rega Devo ucciderlo così Più che altro Perché lui è molto forte Bomber Bomber Se stai guardando questo video GG Hai fatto una grandissima partita Però mi dispiace Ma devo killarti Per forza in questo modo Capiscimi Devo per forza registrare Il video qua molto velocemente Niente Sei stato eliminato Bomber GG È stata una bella partita Mi congratulo con te Che è stata davvero Molto forte E non Fanculo Grazie per avermi scritto Fanculo così Grazie bomber Spacchiamo qua Rega Però dobbiamo uscire Perché ha 30 di vita E siamo rimasti in pochi Siamo rimasti in due Quindi calma un attimo Allora Chi è che è rimasto Ludo 21 Che è il bianco Qual è il bianco Rega È là in fondo Il bianco Perfetto Allora vado da qua lì Ce l'ho ancora Le particos Della Mela OP No bianco No No mi sta distruggendo Il mio nucleo No bianco Non farlo No Non mi lascerà mai 3 Non mi lascerà mai 3 Eh no rega L'ha vinta il bianco L'ha vinta il bianco Rega purtroppo Eh no Eh no rega È andata male Eh GG GG Bomber GG GG Vabbè ragazzi Per questa cubo E tutti mi raccomando Spero che vi sia piaciuta Passate da pixel Perché è un server Molto molto bello E proprio Hanno messo il cuore Per riportare questo server Con questa qualità Perché è davvero Un server molto bello Le cubo Le potworks Che sono una modalità Nuova e innovativa Ragazzi Quindi passateci Ci sarà lì In descrizione Noi ci vediamo In un prossimo video Da Mark È tutto Bella